buonasera e benvenuti in quest'altra recensione di recensioni veloci questa sera parleremo del gel da pulizia della Siosin ecco è arrivato un classico gel da pulizia della questa marchia Siosin andiamo subito a vedere dentro come è fatto eccolo qui lo togliamo dal suo invoglio ovviamente umido perché serve comunque per attrarre la polvere lo proviamo subito classico utilizzo è proprio la tastiera perché no usiamo anche con la reflex subito qua nella ghiera dell'obiettivo proviamo con quest'altra tastiera questa decisamente più sporca sicuramente efficace tra l'altro anche anche un prodotto profumato per futuro rispetto ad altri che hanno un odore terribile questo invece quantomeno profumato è abbastanza efficace